Rigo, che emozione le fa ancora adesso un premio così? Beh, è sempre meglio avere un premio che avere delle bastonate, no? No, mi fa piacere, mi fa piacere. Poi io qui sono stato diversi anni, devo molto a questa città. Arrivai che era in C, me ne sono andato che era in A. È da qui che è iniziata la sua grande storia, poi ovviamente è arrivata in A. Era iniziata da molto tempo prima, però giustamente ero un signor nessuno e ho dovuto cercare di... che cosa cercavo? Di vincere meritando in un paese che si era contentato di vincere. Ci saranno tanti cambi in panchina quest'estate, Conte al Napoli, Fonseca che dovrebbe firmare a ore o giorni col Milan, Tiego Motta alla Juve, ce n'è uno in particolare che la stuzzica come abbinamento? Beh, intanto quelli che hai detto sono tutti allenatori di valore. Antonio Conte farà... io gli auguro che faccia bene perché lo merita, è uno che dà la vita al calcio. Adesso qualcosa si è mosso, ma in questo paese a muoversi è una difficoltà enorme. È un paese vecchio, è un paese che... Il calcio è il riflesso della storia e della cultura di un paese. E quindi la nostra storia dopo i Romani è stata non proprio brillante. Qual è il gioco che in questo momento le piace di più? Cioè di chi è il gioco? Ma... quelli che cercano di giocare. Giocare è dare delle emozioni. Allaciare il dominio del gioco agli altri non hai emozioni. Dovrei dire che sono degli eroi, sì, vabbè. Però non dai la gioia. Ma dopo salta fuori che i giornali spingono in un modo. Le televisioni anche, perché anch'io ho lavorato in televisione. E so che non sempre dicono la verità. So anche che molti sono stati mandati dalle società. E anche queste devono stare attenti. E così non si va avanti. Cerchiamo sempre di fregare. È un paese che io amo e che purtroppo... Però mi ricordo da piccolino che dissi a mio padre, che mi portò con lui in Germania. Dissi, ma loro sono crucchi e noi siamo furbi. Loro girano tutti in Mercedes, in Porsche, in compagni a me e noi facciamo i lavori più umili. C'è qualcosa che non mi quadra. E questo è nel calcio. Nel calcio purtroppo non sempre... Adesso però si è mosso qualche cosa. Finalmente si è mosso qualche cosa. Devo dire, quello che mi disse Costa Kurt, ci hanno copiato in tutto il mondo, eccetto che in Italia. Nemo profeti in patria. E quindi accontentiamoci che non ci hanno picchiato. A proposito di accoppiamenti... Tanti vostri colleghi hanno cercato di farmi fuori. Perché io dicevo esattamente il contrario di quello... E allora dicevano che li stavo ammazzando tutti. Dopo Maldini ha finito a 42 anni, Costa Kurt a 41 anni, Varesia... Sto come li ho massacrati. Tutti non cevi. A proposito di abbinamenti, c'è questa possibilità di rivedere un centravanti olandese nel Milan, ovvero Zirk Zee, che sappiamo che come ha copiato, lei ne sa qualcosa più degli altri, non ha fatto malissimo in passato, l'affascina? Io non conosco questa... Io conoscevo Berlusconi, conoscevo Gagliani, ma questi non li conosco. Io spero che seguano le richieste dell'allenatore. Perché io non ho mai visto quelli che non sono allenatori, che riescano a centrare il giocatore in relazione a quello che vuole fare uno. Uno se vuole fare il catenaccio dovrà prendere i giocatori. Se uno se vuole attaccare dovrà prendere... Io devo essere grato a Berlusconi e a tutti. Ho un record. Vediamo se qualcuno riesce a saperlo e qual è il record. Io ho cominciato ad allenare in seconda categoria. Ho fatto seconda categoria, prima categoria perché avevamo un bianco. Ho fatto quarta serie, C, B e A. Il record che non sono stato mai esonerato. Mai. Oggi è impossibile, dai. No, beh, anche allora era impossibile. Perché credimi era peggio di oggi. Era facile anche allora. Quindi passai dal Cesena al Rimini. E' come mettere adesso i russi e gli ucraini. e quando avevo fatto il contratto con i Rimini e sul giornale scrissero fanno il nome di un certo... Gli allenatori, molto probabilmente Angelillo, Tom Rosati, Dominghini. Poi si fa il nome di un certo Rigo Sacchi. Per favore non facciamo certi nomi. Lei è stato tra i grandi promotori dell'arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell'Italia. Crede che, insomma, è davvero la persona perfetta per riportare Scuetto a Napoli? Antonio Conte è un professionista di grande livello. Da Vita. E quando una persona è così, chapeau. Lui mi raccontava che al Mondiale lui si è preso giù tutti gli allenamenti che facevo. Ma lui era ancora giovane. Però aveva una persona seria. Una persona seria. Gli auguro tutto il meglio possibile. Abbiate pazienza anche voi. un pochino. Perché per vendere più giornali la tattica è questa. la tattica è se vai bene di alzarli al massimo e se vai male di spararti addosso. Cerchiamo di capire, lasciare un po' di spazio, vedere. È un paese difficile. Io lo amo questo paese, ma è un paese vecchio. vecchio vecchio. Questo paese c'è una nazionale che non ha i campioni che aveva prima. Come la vede all'europeo Spalletti? Anch'io non avevo dei campioni. Un paio magari sì. No? Per arrivare in A, no? Eppure sono arrivati in A. Se la stampa vuole non aiutare le persone, la stampa, la televisione, cominciano a dire come dicevano con un campione che dicevano che si doveva caricare sulle spalle la nazionale. L'hai ammazzato. Perché nessuno può caricarsi sulle spalle uno o due o dieci. Sono dieci da caricare. Pesa. Dobbiamo imparare un po' a essere onesti in un paese che purtroppo non brilla in questo. Le chiedo dal punto di vista tattico perché lei è maestro. No? Con il materiale a disposizione che ha Spalletti cosa... Lei come giocherebbe? Come giocherei? Sì. Da un punto di vista strategico. Guardi che Spalletti è molto bravo però se lei fa giornalista se lei fa l'allenatore in questo paese la più probabilità è lei di uscire. vogliamo sempre io sono stato premiato poco tempo fa in Croazia sono 4 milioni noi quanti siamo? Loro dissero 60 milioni io dissi uno siamo uno cosa vuol dire uno? Sì perché uno per uno fa sempre solo uno è un paese di furbi ah bei furbi abbiamo mi pare 3 mila miliardi di debito è così? Più o meno devo controllare se non fossimo furbi così dovremmo avere lo lasciamo perdere grazie tornare a Parma le emozioni ti dà e poi è un cerchio che ci chiude ti prendono proprio qua Parma è una città fantastica io ho avuto la fortuna di avere delle persone che mi hanno seguito e mi hanno aiutato e quindi Parma Milano sono sempre nel mio cuore quando Moratti seppe che ero stato un tifuso dell'Inter venne per darmi una medaglia d'oro e io dissi sì ero un tifoso dell'Inter ma prima di prendere la medaglia le dico che i pentiti sono i peggiori grazie arrivederci